diritti d'autore instagram diritti d'autore instagram diritti d'autore snapchat k h lo e kardashian diritti d'autore splash news diritti d'autore instagram screenshot diritti d'autore splash news 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 la sorella di kim incinta di otto mesi avrà una femmina che sarà quasi coetanea delle cugine chicago west e stormy webster arrivate in famiglia da pochi mesi dopo la nascita di chicago figlia di kim e kardashian e di kani e west e di stormy primogenita di kylie ci sarà un altro fiocco rosso in casa kardashian e jenner ha anche l'altra sorella k h lo e aspetta una bambina la notizia l'ha data la futura mamma nel corso del finale di stagione del reality di famiglia hyping up with the kardashians ho pianto quando ha scoperto che north sarebbe stata femmina le ha detto la sorella kim e sono sotto shock ha risposto k h lo e emozionata convinta che avrebbe avuto un maschio top stories per la kardashian 33 anni è la prima gravidanza la notizia era arrivata lo scorso settembre praticamente in contemporanea con l'annuncio della sorella minore kylie al suo fianco il cestista tristan thompson con cui fa coppia fissa dal 2016 lui è già padre di un maschietto prince jordan 11 anni avuto dall'ex jordan craig tra poco più di un mese sarà un fratello maggiore ma in netta minoranza in famiglia le quote rosa abbondano chissà che in futuro non arrivino altri ragazzi a riequilibrare la situazione promisata Musica